Benissimo! E come prova ci siamo! Se non c'è qualcuno che ci ama le tette, non potrà mai funzionare! Amma! Che applauso caloroso! Ah, ci siete! Bambini, cosa c'è scritto qua? Mago! E adesso? Mago Ture! Stasera cercheremo di fare qualcosa che non ha fatto mai nessuno, spero! Noi ci impegneremo, non vi assicuro, la buona riuscita! Tante carnevale, chi se ne frega no? Come in ogni spettacolo, aspettami un po' di sottofondo e dico... C'è, c'è! Come in ogni spettacolo, ognuno ha i bodygirls, i suoi uomini di viso, i suoi... I uomini veramente, ma veramente... che non mi devono toccare nessuno! Quindi, faccio entrare... Giuseppino! Dov'è Giuseppino? Non c'è, ah! Eh, un mastino! Si chiama Grigno! Io speravo che cose greppe! Si addolciva un po'! Ma, pazienza! Ma io non altro mastino! Un mastino proprio... Faccio entrare! Anni tu! Sono coloro che mi aiuteranno! Dei maschioni! Mi piacciono i bambini? No! Sono bellissime! Io posso fare la femmina e non posso fare i maschili! E' un mastino! E' un mastino! Ma chi è questo? La mia valletta! Agostina! Gamma verde! Certo più bella devo di fare! Donna barbuta! Sempre piaciuta! Allora! Però andiamo al sudo! Perché non abbiamo tanto più! Andiamo al sudo! Adesso farò entrare Agostina dentro questa cassa! Guarda mio valletto, eh! Un valletto mascolo, Massimo! Che sbaglio! Dov'è? Massimo! C'è? Massimo! Massimo, qua! Massimo! Eh, vieni qua che mi aiuti! E che mi sta succedendoci in Vantagina! E che mi sta succedendoci in Vantagina!